Una signora residente a Dothranto ha presentato denuncia segnalando che, navigando in internet, aveva notato un noto portale di vendite online e un annuncio relativo a un telefono cellulare a un prezzo interessante. L'ignare acquirente ha contattato il venditore tramite la sua email personale lasciandogli il suo recapito telefonico. Poco dopo il fantomatico venditore ha richiamato la donna dicendogli di effettuare il pagamento tramite una ricarica post e pay, insomma sempre lo stesso metodo di raggiro. Da qui è iniziata l'infinita attesa della donna per quel telefonino che non è mai arrivato ed è partita formale denuncia al commissariato di polizia di Otranto. I mediati accertamenti della squadra di polizia giudiziaria hanno permesso di stabilire che intanto l'utenza telefonica utilizzata era intestata a persona diversa da quella utilizzata dal venditore, che invece era il vero titolare del conto post e pay su cui erano finiti i soldi versati, ovvero un ben noto crotonese di 40 anni già denunciato svariate volte per analoghi motivi.